Ma quindi se lei è appassionata dell'alberi, non so se conosce sicuramente il compositore Krzysztof Penderewski, perché lui, lei sa che è morto, no? E aveva una grande collezione dell'alberi, perché era un amatore proprio dell'alberi, che ce l'ha il suo parco proprio in Polonia, che sicuramente bisogna vedere e visitare. Ho fatto anche l'intervista con lui, dopo che abbiamo contato il suo Polish Requiem, e quindi lui era proprio pazzo per l'alberi. Che tipo di alberi piace a lei? Il mio albero preferito è l'olivo. L'olivo? Sì, perché è l'albero tipico dell'Italia, è un albero antico, profuma, e io adoro le olive e l'olio d'oliva è una delle mie cose preferite, lo uso per mangiare, lo uso per il corpo, per tante cose. Poi così ha un odore molto delicato, mi piace proprio completamente come albero. Grazie. Grazie.